Oggi bisogna inventarsi, bisogna contare su se stessi e costruirsi. Come faccio io a costruire me stesso se non so come se vogliono mi attendere da me? Come faccio io a costruire me stesso dopo di di lavoro? Ma lo devo fare prima, devo essere padrone di quelle che sono le mie competenze. Devo capire quali sono le mie competenze specifiche, della mia persona, siamo tutti diversi. E poi su quelle coltivare come terreno fertile per coltivare la mia pianta e pesca, fortemente. Dobbiamo essere più liquido, ci dobbiamo adattare alle situazioni, dobbiamo provare che non è la situazione giusta.